La teo tocoso della corale di Frattino Sanna è presente qui a Paravati Tu sei anche componente della corale Siamo in un luogo adatto per testimoniare Sì, certamente, questo è un luogo di altissima spiritualità È la prima volta a venire in questo luogo di preghiera Nel luogo di Natuzza È già emozionante di per sé il posto Questa bella cattedrale a forma di certo che l'accoglie tutti Ma la cosa più bella sarà cantare tutte le persone insieme E lodare Maria per questa giornata di festa Salvatore, tu fai parte della corale Stavo dicendo di Tino che vive di nascondimento La corale è preghiera Un canto che si innalza al cielo E quindi le persone che ascoltano Cosa si può dire nel merito? Allora, Tino, come dice Frate Tino, vive nel nascondimento Natuzza diceva Io sono un verme di terra Quindi sono entrambe sentimenti di umiltà E questa sera, tutti insieme Con questi sentimenti Vorremmo cercare di dare Di pregare Con semplicità e appunto con umiltà In questo luogo molto bello Siamo in tanti Siamo circa 80 E per me è la prima volta Come dicevo Però Certamente sarà un momento di preghiere e di festa Grazie